Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Si dice spesso che anche un orologio fermo, due volte al giorno, segna comunque l'ora esatta. E questo antico detto trova conferma oltretutto nelle recentissime parole di Navalny. Chi è Navalny? Navalny è un uomo che proviene dall'estrema destra russa, un uomo antiputiniano, un uomo che vorrebbe la liberalizzazione atlantista della Russia, un po' come Kasparov lo scacchista. E proprio per questo l'Occidente ha dimenticato l'essere dell'estrema destra di Navalny e lo ha riabilitato celebrandolo a pie sospinto come punto di riferimento dei diritti, della democrazia e delle lotte per la libertà. Trasformando ideologicamente Navalny nel grande oppositore di Putin, il dittatore Rosso Bruno, lo zar omofobo e eurasiatista. Con un piccolo dettaglio che va chiarito, in Russia Navalny sostanzialmente non conta nulla politicamente dato che il suo partito non ha mai ottenuto grandi consensi e quindi sostanzialmente la contrapposizione tra Putin e Navalny è una sorta di creazione mediatica dell'Occidente stesso che tutto punta su Navalny come eroe della occidentalizzazione e quindi della distruzione della Russia. Bene, Navalny, dicevo però, ogni tanto ne dice una giusta anche lui, perfino Navalny ogni tanto dice una cosa giusta e recentemente ha criticato Yeltsin. Ha detto che il male della Russia non deriva solo da Putin, verso il quale Navalny nutre un irresistibile odio naturalmente, ma anche da Yeltsin. Si è scordato di citare Gorbaciov, perché poi in realtà è lì che inizia la dissoluzione della Russia. Però nell'avere identificato in Yeltsin qualcosa di negativo, Navalny ha detto per accident una cosa vera, perché Gorbaciov prima e Yeltsin dopo rappresentano i due momenti dissolutivi della Russia, rispetto ai quali Putin invece ha saputo, questa è la mia interpretazione, porre in essere una rivoluzione, ha fermato quel declino e ha cominciato di nuovo a rendere la Russia indipendente, autonoma e sovrana rispetto agli appetiti dell'imperialismo a stelle strisce. Però ha ragione Navalny in questo. Yeltsin rappresenta qualcosa di estremamente negativo. Yeltsin che rotola ubriaco di vodka sotto i tavoli. Yeltsin che fa bombardare nel 93 il Parlamento russo. Yeltsin che svende la Russia al grande capitale. Yeltsin che rende sempre più la Russia una dependance di Washington. Quindi su questo almeno Navalny una volta tanto dice una cosa sensata.